couscous freddo a modo mio per prima cosa taglio le carote a pezzetti piccoli le zucchine le melanzane i peperoni poi metto l'olio in padella una tazzina d'acqua aggiungo le carote e faccio cuocere 5 6 minuti a fiamma alta poi metto le verdure tagliate in precedenza i piselli regolo di sale metto un po di peperoncino e lascio cuocere 15 minuti a fiamma alta mescolando spesso nel frattempo metto il couscous in un contenitore aggiungo il brodo vegetale caldo copro e lascio riposare per 10 minuti poi lo sgrano con i rebbi di una forchetta aggiungo le verdure cotte possibilmente intiepidite i pomodori da insalata la scamorza affumicata le foglie di basilico mescolo copro e metto in frigo ed eccolo qui buon appetito insalata di patate e fagiolini a modo mio fresca e sfiziosa tolgo le punte fagiolini li sciacquo bene sotto acqua corrente fredda sbuccio le patate le taglio a pezzetti e sciacquo anch'esse sotto acqua corrente fredda poi quando l'acqua bolle la salo metto le patate e le faccio cuocere per una decina di minuti dopo 10 minuti metto i fagiolini e li faccio cuocere per 6-7 minuti poi scuolo tutto e per fermare la cottura passo sotto acqua corrente fredda mentre patate e fagiolini si raffreddano ancora metto nel bicchiere del mini pimer l'aceto di vino bianco l'olio il succo di limone il pepe nero il sale l'origano l'aglio frullo tutto poi metto patate e fagiolini in un contenitore aggiungo il condimento mescolo bene e metto in frigorifero per almeno mezz'ora ed ecco qui che freschezza e che bontà buon appetito frittata di zucchine crude con salmone affumicato filadelfia e rucola grattugio le zucchine in un canovaccio poi le strizzo bene tagliuzzo la rucola con le forbici rompo le uova in un contenitore metto le zucchine crude il sale mescolo tutto poi filo d'olio in padella aggiungo il composto di uova e zucchine e faccio cuocere 6-7 minuti poi giro e faccio cuocere un altro paio di minuti una volta cotta la trasferisco su carta assorbente ed una volta raffreddata spalmo il formaggio lungo tutta la superficie metto la rucola su metà della frittata il salmone affumicato sempre solo su metà ancora rucola chiudo ed eccola qui buon appetito insalata di pollo ricca a modo mio per prima cosa snocciolo e spezzetto le olive poi tagliuzzo la rucola i pomodori taglio a pezzettoni il petto di pollo olio in padella una volta caldo metto il petto di pollo regolo di sale e a fiamma alta faccio cuocere per 10-12 minuti poi spengo e faccio intiepidire nel frattempo metto la rucola in un contenitore i pomodori la scamorza affumicata il mais le olive mescolo metto il petto di pollo l'olio il sale mescolo bene copro e metto in frigorifero ed ecco qui che bontà buon appetito tortino di verdure freddo per prima cosa affetto le zucchine poi le melanzane i pomodori ed arrostisco le verdure appena tagliate per un paio di minuti per lato ora metto l'olio in un bicchiere aggiungo l'aglio in polvere mescolo spennello con l'olio la pellicola che ho usato per rivestire lo stampo per i plum cake ed inizio a fare uno strato con le melanzane pizzico di sale basilico e mozzarella julienne alla stessa maniera strato di zucchine poi di pomodori e così fino a riempire completamente lo stampo poi presso chiudo e lascio in frigorifero per 4-5 ore magari con un peso a pressare ed eccolo qui guardate che spettacolo buon appetito insalata di pomodori di nonna per prima cosa taglio i pomodori a pezzetti le cipolle a fettine sottili metto in un contenitore aggiungo l'olio il sale il basilico fresco le olive i filetti di tonno mescolo e poi copro e conservo in frigo o servo subito e che freschezza buon appetito